Buonasera a tutti, ben ritrovati al nostro quotidiano appuntamento di preghiera in queste sere che ci stanno aiutando a prepararci a vivere bene la festa della Madonna del Carmine che vivremo insieme domenica. Questa sera sono con noi, accompagnati dalla loro animatrice, a pregare un gruppo di ragazzi di prima media. Loro l'anno prossimo, speriamo, possano ricevere il dono dello Spirito Santo nel sacramento della Carisma. Come vogliamo farci allora aiutare da loro a vivere bene questo incontro con il Signore. Ci mettiamo in preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo del Signore portò l'aduncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego a noi cittadini. Vado a essere benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego a noi cittadini. Adesso è benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Parichiamo. Impondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre. Tu che all'annunzio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie a tutti, grazie ai ragazzi e ai loro animatori per averci aiutato a vivere bene questa preghiera. A domani e buona serata a tutti. Grazie a tutti.